Stavolta non mi scappi. Saturon Kabat. Un lottatore che usa questo stile deve usare ogni singola parte del corpo e colpire con grande potenza. Deve essere un ottimo attentatore per riconoscere il punto debole dell'avversario qualsiasi esso sia senza alcuna remora e colpirlo mortalmente. In pratica deve essere feroce come un leone e forte come un elefante. Amici, voi ora siete testimoni della più potente e maestosa tecnica mai esistita. Noi! Anche se purtroppo dopo oggi Sparirà per sempre